Wanted è un progetto che è finalizzato a far conoscere e riconoscere tutte quelle che sono le opere d'arte trafugate nel nostro territorio. Dopo la pandemia riprendiamo di nuovo il percorso e lo stiamo facendo in maniera molto importante, sia grazie alla collaborazione di molti partner istituzionali e non. E qui voglio ringraziare il comando dell'esercito Regione Sicilia, col suo comandante, i vari assessorati che adesso saranno presenti per condividere questo percorso, perché è importante divulgare sempre più la comunicazione su questo fenomeno, perché molti non sanno che il furto delle opere d'arte, il commercio è lecito, nello specifico, è secondo il traffico di droga e non è il furtarello che si immagina che sia semplicemente un quadro che sparisce. La particolarità di questa ripartenza è che mettiamo insieme due opere simbolo, che è la natività di Caravaggio rubata trafugata a Palermo e il bambinello della Racele a Roma. È un fenomeno da attenzionare, diceva l'assessore Cannella, a questo delle opere trafugate? Sì, è notoriamente un fenomeno che ha dato vita a un mercato illegale molto fiorente, che ha sottratto alla collettività nei decenni dei veri e propri capolavori. Dobbiamo ringraziare sempre le forze di polizia, in particolare anche i carabinieri, i nuclei operativi, che sono sempre stati attenti a cercare di coprire questo percorso. Pur non di meno, mantenere la sensibilità su questa tematica, come sta facendo l'associazione Extra Art, meritatamente da diversi anni, il progetto Wanted, ha tuttora una grande attualità. Ha una grande attualità perché è come se fossero dei bambini scomparsi nelle nostre opere d'arte, di cui bisogna fare sapere sempre che ve ne è in memoria per poter non distrarsi su questo fenomeno. Il furto e il traffico di opere d'arte è una piaga non soltanto locale, ma è un elemento fondamentale dei traffici criminali anche internazionali. Il furto della natività è una sfreggiatura al patrimonio culturale locale, ma anche nazionale, che purtroppo è emblematica di un interesse criminale che ha interessato addirittura, in tempi recenti, organizzazioni terroristiche come l'ISIS, che ha fatto appunto del traffico dei reperti archeologici delle opere d'arte, una delle sue fonti di finanziamento. Quindi è certamente un fenomeno da attenzionare e grande merito va alla Fondazione Extra Art, al progetto Wanted, che da anni si batte per la ricerca delle opere trafugate e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema.